Sono Tommaso Belvedere, Vice Sindaco del Comune di Parghelia e Assessore al Sport, Turismo e Spettacolo. Siamo qui nella sala consigliare dove il 2 e il 3 aprile sarà protagonista uno spettacolo teatrale di cui io sono orgoglioso e vorrei ringraziare soprattutto i ragazzi del servizio civile, da me soprattutto voluto, che hanno ideato questo spettacolo insieme all'associazione Labo Art che ringrazio tantissimo. Hanno creato non solo lo spettacolo teatrale ma anche questa missione fra giovani, questa unione fra giovani che hanno creato questa particolare attrazione. È uno spettacolo itinerante, io ho visto qualche prova ed è veramente qualcosa di emozionante ma anche di diverso e li vorrei ringraziare tantissimo soprattutto Francesco, un ragazzo carchiri che è il protagonista e il regista che sta facendo da noi il servizio civile. Quindi mi auguro che chi verrà sarà entusiasta di questo progetto.